Si parte col piede sinistro e si fanno stop in avanti, piede destro, stop in avanti, piedi leggermente divaricati, poca roba, con il piede destro adesso facciamo tre swivel verso destra, muoviamo prima la punta, poi il tallone e poi la punta e abbiamo il peso più spostato verso destra, ci siamo fino a qua? Ripetiamo? Dall'inizio, 7, 8, stop, stop, punta, tallone, punta, allora questi tre swivel sono sincopati, ok? Facciamo un po' contegno, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, andiamo a fare due point di piede sinistro incrociato dietro al destro, 1, punta, devi piedi, dopodiché tre stop, prima stop di sinistro e allarmi i piedi, con il destro, vado a fare uno scontato vicino e stop all'armo. Ti piace? Ripetiamo, ripetiamo, dall'inizio, 7, 8, stop, stop, tre swivel e poi punta, punta, stop, stop, chiudo, altro. Ci siamo? Conteggi? 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Ci siamo per tutti? Prima sequenza andata? Ok. Seconda sequenza, sempre di piede sinistro, passiamo lo swivel di tallone all'interno, portiamo il tallone all'interno e raddrizziamo il piede. Piede destro, stessa cosa, tallone all'interno e raddrizziamo il piede. Sono sincopati, U, E, 2, E, ok? Un, E, 2, E. Ah, si è detto, non te lo avviare, non te lo avviare. Andiamo a girare un quarto a sinistra e andiamo a fare la spensa di poster step ma finisce con lo scappo, ok? Abbiamo fatto stare, poster scappo. Allora, andiamo a girare col piede sinistro, portiamo indietro, il destro uniamo e con sinistro scappo. È chiaro per tutti questo? Ripetiamo, la seconda sequenza, 7, 8, 1, E, 2, E, 3, E, 4. Lo scappo a tempo pieno. Due volevines, il primo verso destra, incrocio, allardo, tallone e riporto indietro il piede, poi incrocio il destro, vado a lato, tallone e riporto il piede, ok? Ripetiamo la seconda sequenza intera, 7, 8, 1, E, 2, e giro, 3, E, 4, volevines, 5, E, 7, E, 7, E, 8, E. Ci siamo tutti da qua? Allora, fatevi un cenno, dall'inizio, all'inizio, piede sinistro, 7, 8, stop, stop, 3, swivel, 2 punte dietro, 1, punta, stop, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e andiamo avanti, rock step di piede sinistro in avanti, sinistro avanti, porto il peso dietro, coster step di piede sinistro, coster step, step pivot, quindi passo destro avanti, giro in mezzo e shuffle in avanti con il piede destro, shuffle in avanti. Ripetiamo questa terza sequenza, rock step di piede sinistro, coster step, step pivot, shuffle, 7, 8, rock step, coster step, step pivot, shuffle in avanti, ci siamo? Con i piedi di nuovo, sempre dal rock step, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, e siamo la terza sequenza, è quasi finito. Dall'inizio, uniamo tutto? Siete troppo silenziosi. Dov'è Igor? Dov'è Igor? Non hai la birra? Stai carburando? Adesso ti lascio in fase. Ah, ok, faccio il fuoco. Faccio il fuoco. Dall'inizio, si parte col piede sinistro, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, suive, 1, e 2, giro, punch, 7, 8, voice, Anthony, rock, step, coaster step, step, shadow in avanti. khi, Walt Whitman, shuffle in avanti. Un'altra volta? 5, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 2, 1, 2, 3 e 6, 7, 1, 2, 3, retorno, 2, 3, e 4, 5, 6, 7, 8, tacco sinistro, riporto al centro, tacco destro, riporto al centro, faccio la stessa cosa con le punte, quindi punta sinistra sinistra, ritorno al centro, punta destra destra, ritorno al centro, singopati, 1, e, 2, e, ok, facciamolo col tempo, 5, 6, 7, 8, 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, step pivot, quindi passo sinistra in avanti, mezzo giro a destra, peso sul piede destro, adesso full turn verso destra, con due passi, mezzo giro e mezzo giro, fine, finisce qua, ok? Ripetiamo l'ultima sequenza, piede sinistro, il switch, toglie punte, step pivot, full turn, 5, 6, 7, 8, tacco, tacco, punta, punta, step pivot, full turn, dovrei vedere il peso sul destro, perché il ballo inizia con il piede sinistro, ok? Rifacciamo, ultima sequenza, i tacchi si guarda con sinistro, 7, 8, 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 5, 6, 7, 8, ci siamo? Uniamo tutto? Vai, all'inizio, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, e, 4, 5, 6, 7, 8, e, 5, 6, 7, 8, suive, 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 costa e scappa, vo de bille, vo de bille, ro, step, costa e step, 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 i go, sciaccia in avanti, tacco, tacco, punta, punta, step, i go, punta, tutto ok? Ok? Muoviamo il secondo muro? Secondo muro? 5, 7, 7, 8, stomp, stomp, swive, suive, suive, punta, stomp, 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 swive, suive, costa e scappa, vo de bille, vo de bille, ro, step, costa e step, step, i go, sciaccia in avanti, tacco, 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 punta, step, i go, punta, terzo muro, 5, 6, 7, 8, sinistro, e, 4, swive per 3, punta, punta, stomp, 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 swive, all'interno, interno, costa e scappa, vo de bille, vo de bille, ro, step, costa e step, step, i go, sciaccia in avanti, tacco, 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 punta, punta, step, i go, andiamo avanti, stomp, stomp, swive per 3, punta, punta, stomp, 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 interno, interno, costa e scappa, vo de bille, vo de bille, ro, step, costa, step, step, i go, si fanno solo i primi 8 e poi si riparte quindi andiamo a fare i primi 8 con la ripartenza e andiamo avanti 7, 8, stop, stop, sweep, punta, punta, stop, punta, resta, stop, stop, ta, 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 punta, punta e stiamo avanti col ballo è chiaro? i primi 8 resta, si riparte allora finale, ci sarà il finale? ci troveremo a ore 6 a dover incominciare la coreografia quindi il primo stop di sinistro ci sarà invariato il secondo sarà sincopato perché andremo a fare mezzo giro con 3 stop quindi stop di destra rimango a ore 6 sempre stop di destra, giro un altro quarto sempre stop di destra, giro un altro quarto, mi ritrovo all'inizio stop finale di piede sinistro, chiuso ok? i tempi di questi passi il primo a tempo pieno 1, i 3 stop che vi servono per girare 2 e 3 2 e 3 stop finale ok? ci siamo? proviamo a farla? una domanda sola, quanto è lungo sto ballo? il 1 meno un quarto al finale c'è ai 6 complimento proviamo asipto il 1 meno un quarto al finale c'è ai 6 il 1 meno un quarto al finale c'è ai 6 1 Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!